Paolo Bettini, nelle vesti di maestro per un giorno, quali sono i consigli che può dare agli atleti sia professionisti ma anche amatori? Parlando del professionista, la cura del dettaglio, perché abbiamo visto per esperienza quanto è importante, quasi in maniera maniacale, curare dettagli per fare la differenza in una categoria che a livello scientifico ormai ha livellato di molto le prestazioni degli atleti. Pertanto con questo grande livellamento la cura dei piccoli particolari serve per arrivare a fare comunque la differenza che serve. A livello amatoriale divertitevi, è un mondo fantastico, quanto bizzarro, cercate di non disperdere quello che è poi il concetto più importante, cioè il divertimento nella vita. Seguite una passione, seguitela con tutte le vostre forze, fatevi consigliare dagli esperti che avete vicini ma non dimenticate di divertirvi. La tecnologia in questo sport è quanto è importante? Tantissimo, tantissimo l'evoluzione di tutto, delle metodologie di allenamento, dei materiali sia a livello di biciclette che di abbigliamento, stanno facendo veramente grandi passi in avanti, stanno rendendo le cose più facili, parlando di uno sport comunque così difficile e duro come il ciclismo. Tantissimo, tantissimo.